ciao ragazzi sapete sto Volpe e oggi siamo come vedete su fifa 17 la demo allora oggi andremo a vedere il viaggio che cos'è questo fantomatico viaggio si si chiamavano il nome del mio piccolo si chiamavano il nome del mio piccolo All right, lads, I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet, Walker, he'll lead in the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready, you're not there to get a suntan. Let's go and show these supporters what we can do, eh? Let's go and show them the pressure. Let's go and show them the pressure. Let's go and show them the team sheet. Here we are now. Controliate the team. Imposting to play, good. Let's control the protagonist, of course. The Manchester is sixth. The first is... Ok, good. Let's go. Thank you. Can't wait for this one. It's a full house. Two excellent teams up here. Go! 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 Una pari. Once or mille, took an eye. And it's Alex Hunter who's rolling up. This will be his debut. The whole move from the Manchester United coaching staff here. Tewaia! 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 Grazie a tutti. Mi piace una bottiglia. Mi ricorda quello che abbiamo detto, che hai la sua disciplina. E vediamo che si può fare. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. si no ora 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 o 確che a quello che ritabi di spettacolo, questo è il perfetto di spettacolo, per il perfetto di spettacolo. Non credo che la possibilità era lì, ma ha fatto la sua proposta, non ha fatto la sua proposta? Telse ha venuto dietro. No, 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 no! Che bene che difendono anche le posizioni. Ah, niente. 7.8 siamo già da. No, ma so, niente, non me la. Eh, pure faglio. No, ma so, niente. Ah, l'hai capito, bravo. Non è, non è. No, ma so, niente. Passa! 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 No, niente. Passa, 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 ragazza baglia, grazie. Ah, peccato. Ah, peccato. Ah, peccato. 8.9. No. Piglielo, bravo. Eh, sì, però. Ok. Nowe punto zero. No. No, non neanche ha fatto un golpe. Non fa niente. Importante far vincere la squadra. Tuttum. Comunque, hanno ralentato abbastanza i giocatori, eh, quest'anno. Vai, tira il testo. Buona idea, grazie. Diego Costa. Dai che è finita. Colto il Chelsea. Sì. Immagino che potremmo fare solo questa quale storia. Questa partita. Non credo potremmo fare tutta. Morgan Schneiderlin. Ah, peccato. Via, via, via. Eh, peccato. Ottimo eserimento. Buono. Passa qua. Passa. Passa. Eh, finito. Beh, 3 a 1. E Manchester United ha vinto. E Manchester United ha vinto. Buono. 3 a 1. Vabbè. Adesso vediamo. Un giorno emozionale per te, all'interno, Alex. Un commento per partire il tuo debutto con il tuo amico e amico, Gareth Walker. Allora, non è andato esattamente come immaginavo. Un momento speciale. Non si... No. Un momento speciale. Un momento speciale. Un momento speciale, per sicuramente. Non vorrei lasciare l'Hanari. Alex, la squadra viene fuori con un giro. Quali commento sui tre punti oggi? Allora. La squadra ha girato bene. Ogni partita. Ok, questa va. È un po' di cliché, lo so. Ma ogni giorno, ogni squadra può battere ogni altra squadra in questa squadra. Eh... Abbiamo perduto alcuni giocatori, ma abbiamo una squadra talentosa. La squadra, Gaffer's got the tactics and the side spot on, and we've come away with a win that I think we can be very happy with. Thank you, Alex. Bravo. Thank you. Ok. Penso sto... No, no, finito qua. No. Questo è il spot ed è il viaggio. Lo so... 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 We might as well back this season in now What was he thinking? I want to stay and fight for my place I won't let you down Alex Potter, an outstanding goal Welcome to the Premier League This young man has everything We're going to make history Incredible, Potter My name is Alex Hunter You don't know me But believe me You soon will Eh beh, immaginavo è finito così Vabbè, la demo è finita qua Abbiamo visto oggi il viaggio E ci vediamo in un altro appuntamento con FIFA e la demo Ciao a tutti ragazzi